Agevolazioni per la riapertura dal 1 gennaio di quest'anno di negozi sfitti. Contro la scomparsa dei negozi di vicinato a Padova, il Comune scende in campo con un contributo destinato a piccoli esercizi commerciali, bar e ristoranti, pari all'importo versato nel 2018 a titolo di Tari, Canone Cosa, per imposta di pubblicità e riparametrato affinché copra 365 giorni interi di attività. In pratica non si pagano le imposte, ma sono necessari dei requisiti. Bisogna aver aperto dal 1 gennaio 2018, bisogna aver aperto un locale con una superficie di vendita inferiore ai 500 metri quadrati, bisogna appartenere alla categoria di micro o piccola impresa secondo la definizione comunitaria, parliamo di diversi milioni di fatturato, quindi comprendiamo sicuramente tutti i piccoli imprenditori e il locale che è stato riaperto doveva essere chiuso da più di un anno nel momento in cui è stato riaperto. La domanda deve essere presentata attraverso il portale istanze online di Padovanet, il contributo massimo erogabile di 5.000 euro per locale commerciale riaperto, ma l'offerta non è valida per tutti. Abbiamo deciso di escludere alcune categorie come centri massaggi non qualificati, piuttosto che money transfer o sale scommesse, sale slot, perché è evidente che sono delle tipologie di attività commerciali che non rispondono alla finalità vera di questo progetto che è quello di portare una socialità positiva nei nostri quartieri. Sul fronte a piccolo commercio, gli ultimi dati sulle aperture rese note dal settore sua pedattività economiche mostrano già un trend di crescita rispetto al 2017 in controtendenza con le statistiche provinciali.